gli studi più recenti evidenziano come un antibiotico terapia precoce sia fondamentale nei nostri pazienti e come questa terapia debba essere ad ampio spettro nei pazienti più fragili pazienti più fragili che sono i pazienti tipici con cui ci confrontiamo tutti i giorni in medicina interna d'altra parte una volta ottenuti culturali è altrettanto fondamentale eseguire una stewardship antibiotica e passare ad un antibiotico terapia mirata questo nell'interesse sia del paziente che della collettività per il paziente un antibiotico terapia mirata può essere associato ad un minore sviluppo di effetti collaterali d'altra parte per la collettività è altrettanto fondamentale perché sappiamo che un antibiotico terapia mirata porta certamente ad un antibiotico rispetto ad esistenza mi 9